Presidente, oggi l'ennesima presentazione di un aeroporto che è proprio stento a decollare, potremmo dire che è l'ennesima passarella? Speriamo di no, speriamo di no. Intanto bisogna ringraziare la Regione per aver realizzato l'allungamento della pista, questa infrastruttura essenziale per poter programmare e rilanciare l'aeroporto. Ora subito bisogna mettersi a lavorare per un piano di rilancio, una start-up dell'aeroporto. Quindi servono a mio avviso misure straordinarie, quindi serve una politica di coesione territoriale utile da poter far decollare l'aeroporto. C'è bisogno subito e immediatamente di prevedere dei voli per Torino, per Milano, perché no anche per Catania, ma anche pensare a quei voli di nicchia non presenti in altri aeroporti di Puglia, quindi nel sistema aeroporti di Puglia, per esempio verso Sarajevo, che può essere utile anche ad un turismo religioso, quindi a Meggiugori, e anche perché no di ritorno verso San Giovanni Rotondo.